Il Bologna protesta e vivacemente per l'operato dell'arbitro Peruzzo che in qualche modo ha segnato la sconfitta interna subita dai Rosso Blu contro il Torino. 2-1 finale per la squadra Granata, la squadra di Ventura che però si è espressa su buone dimensioni di gioco, mentre il Bologna ha fatto molta fatica a costruire già nel primo tempo quando erano i giocatori 11 contro 11. Perché è successo che nell'intervallo Natali per una serie di proteste legate al gol del raddoppio del Torino, che era venuto su calcio di rigore, originato da una mischia in area con esiti molto dubbi, questa protesta di Natali ha innescato una reazione dell'arbitro che lo ha espulso addirittura negli spogliatoi, per cui il Bologna si è ripresentato nel secondo tempo in 10 con la difficoltà naturalmente aggiuntiva di risalire in una situazione molto difficile. Era andato in vantaggio per primo il Torino con una smanacciata un po' malaccorta di Curci di cui aveva approfittato d'Ambrosio e poi il Bologna era riuscito con la forza più dei nervi e della rabbia a risalire la china grazie a un calcio di punizione tirato da Diamanti e poi incornato piuttosto bene da Natali che complice a un rimpallo favorevole sulla sua tibia aveva potuto siglare il pareggio. A quel punto il Bologna contava di arrivare alla fine del primo tempo sull'1-1 e quel pasticcio finale con spinta in area di Della Rocca su un attaccante avversario, con le proteste di Natali e con quello che è successo poi negli spogliatoi, hanno innescato una serie di proteste che si ricollegano anche alla settimana precedente quando il Torino si è sentito depredato nella finale di gara contro il Milan. Non so se ci sia stata compensazione, se l'arbitro Peruzzo abbia in qualche modo, si sia prestato a essere l'esecutore di una volontà risarcitoria da parte degli arbitri, questo non lo credo, ma sicuramente il Bologna è stato danneggiato. Resta il fatto che la squadra è molto modesta, non è riuscita a costruire il gioco, è rimasta prigioniera soltanto dello schema Diamanti o di qualche accelerazione di Conei. Non c'erano altre frecce all'arco del Bologna. Anche per questo, in vista della gara con il Milan, al quale mancherà lo squalificato Balotelli, assenza importante, e poi della successiva partita contro la Roma, quindi due gare consecutive nell'arco di cinque giorni, il Bologna dovrà metterle a frutto con una formazione che probabilmente dovrà rispolverare qualche uomo in più, per esempio Morleo, che sulla fascia potrebbe dare vivacità, per esempio l'Axalt, che potrebbe portare al centro campo insieme a Perez, che speriamo di vedere per 90 minuti, un'altra forza e un'altra continuità. Di certo in attacco c'è un rebus importante, quello di Rolando Bianchi, che ancora si deve sciogliere.